Con Marco Cerreto, deputato della Repubblica Italiana e candidato alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno prossimi, com'è stata questa candidatura quasi al fotofinish, eravamo quasi al termine per la presentazione delle liste? La messa in difficoltà? Ma guarda, le sfide non mi mettono mai in difficoltà, chi fa politica sa di essere innanzitutto un soldato, io mi definisco un soldato politico, quindi come tale è arrivata la richiesta del partito il 30 aprile di dare il mio contributo ad una lista per la circoscrizione meridionale, seppur da parlamentare in carica ho risposto presente e mi sono tuffato, penso in quella che è la campagna elettorale più bella e più affascinante che un politico possa fare, quindi la sto vivendo con un entusiasmo incredibile perché è una campagna di grande fascino, ti fa girare sei regioni, ti fa conoscere tante cose ed è una cosa bella per chiunque faccia politica, quindi io sono onorato di rappresentare non solo Fratelli d'Italia ma di rappresentare la mia amata caserta e il mio territorio ovviamente in questo contesto importantissimo quale quello delle europee. Come sta andando quindi la campagna elettorale? Vede entusiasmo attorno a lei? Vedo un certo entusiasmo da parte di chi ha il tempo di occuparsene e purtroppo invece devo dirmi preoccupato per i più che magari non sanno neanche che si vota perché effettivamente non è stato favorito un confronto sulle europee ed è una cosa molto pericolosa. Io ritengo che il centrosinistra volutamente sapendo di perdere queste elezioni abbia evitato di parlare di europee perché sanno che loro sostengono un modello perdente che è un modello che sta impoverendo i popoli e non hanno un disegno alternativo. Noi oggi contrapponiamo per la prima volta la possibilità di avere un centrodestra su stampo conservatrice che può avere la maggioranza del Parlamento europeo. Non era mai successo prima, oggi ci sono tutte le componenti, tutte le condizioni perché questo avvenga dipende solo da noi e dai cittadini che vanno a votare. Questa cosa la sinistra sta cercando di drogarla e di non farla emergere. Però c'è un problema, se i cittadini italiani non si occuperanno di elezioni europee comunque l'Europa si occuperà di loro. Vedo che ha ben centrato quattro punti del suo programma elettorale. Allora, molto velocemente io ho voluto presentare oggi, proprio per l'assenza di dibattito, proprio per l'assenza di confronto, ho voluto presentarmi alla città, alla mia città, con quattro punti caratterizzanti per il mio territorio. Io oggi mi impegno a realizzare, qualora eletto, un hub commerciale consolare nel Belvedere di San Leucio e questo lo faccio, guardate, non inventandomi nulla, ma semplicemente andando a rispolverare una delibera dell'aggiunta dell'allora sindaco Gigi Falco che nel 2003 aderì con quella delibera il 18 di dicembre alla Euromed City. Noi abbiamo oggi una grande opportunità, che è l'opportunità del Mediterraneo, rilanciata tra l'altro da Giorgia Meloni nel suo piano Mattei. Abbiamo la possibilità di allocare a Caserta, in quello che fu il primo distretto industriale del mondo, un hub commerciale dei consolati commerciali del Mediterraneo, dando quindi la possibilità finalmente ai nostri imprenditori di potersi confrontare con le realtà che stanno dall'altra sponda del Mediterraneo, dare la possibilità quindi anche ai nostri giovani universitari che studiano alla Università Banvitelli il diritto musulmano e il diritto comparato di avere un orizzonte di lavoro, di professionalità. Tutto questo crea dei ponti naturali, commerciali, imprenditoriali, ma io dico anche culturali che possono cambiare il volto della nostra città e della nostra provincia. Così come lancio la sfida del distretto aerospaziale. Abbiamo il Cira a Capua. Questo Cira è completamente decontestualizzato, non parla con nessuno, vive di commesse singole. Perché non creare attorno al Cira coinvolgendo Leonardo, Pomigliano, coinvolgendo le grandi aziende dell'aerospazio che in Campania sono aziende d'eccellenza, che lavorano su grandi livelli e metterle in connessione non solo con le commesse commerciali, ma anche con la ricerca. Se noi immaginiamo che il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale della Federico II è tra i migliori d'Europa e quindi creare attorno al Cira un polo aerospaziale che possa candidare Caserta ad essere avamposto di un nuovo modo di concepire l'insediamento industriale, lo sviluppo industriale. Noi non possiamo continuare a perdere tempo a difendere ciò che è fallito. È giusto difendere ciò che è fallito in quanto difendere i posti di lavoro, ma dobbiamo sforzarci per trovare un nuovo modo di sviluppo, un nuovo orizzonte di sviluppo del nostro territorio e penso che un settore come l'aerospazio oggi possa essere protagonista di questa rinascita. Poi abbiamo il problema del territorio. Noi abbiamo due grandi hub logistici, l'interporto Maddaloni-Marcianise e la zona industriale Gricignano-Teverola-Aversa. L'interporto è il più importante del sud Europa. L'area industriale di Aversa è una delle piattaforme logistiche meglio allocate in tutto il mezzogiorno. Entrambi oggi hanno un grande problema di soffocamento, quello della mancanza dello sbocco al mare. Io vorrei realizzare un corridoio marittimo che connetta l'interporto sud Europa e la zona industriale verso i traffici marittimi del mezzogiorno, rispetto al quale oggi invece questa provincia non ha un corridoio dedicato e quindi si rischia di stare tagliati fuori rispetto al sistema interportuale che esiste, non nel mezzogiorno, ma in tutta Europa. Ecco perché dobbiamo correre. Questo significherebbe dare la possibilità ai nostri imprenditori, alle nostre transazioni commerciali di avere uno sbocco marittimo verso i canali del Mediterraneo, creando un salto di livello incredibile. La quarta proposta è quella di creare a Caserta la sede di un'organizzazione pubblico-privata internazionale. Esistono le commodities che hanno le loro sedi e le loro organizzazioni che regolamentano regole, transazioni commerciali e tutto ciò che ruota attorno alle materie, oggetto di commodity come la gomma, il cacao, l'orio d'oliva, i cereali, il grano. Nessuna di queste organizzazioni pubblico-private ha sede in Italia. Io immagino che la reggia di Caserta, o in caso anche Napoli, possa essere sede di una di queste grandi organizzazioni. Questo significherebbe riportare attenzione al mezzogiorno d'Italia, attenzione non solo di carattere commerciale, ma anche di carattere consolare e diplomatica, perché queste sedi hanno tutta la dignità rispetto di forza diplomatica, di entità di istituzioni diplomatiche. Sarebbe prestigiosissimo avere la reggia di Caserta, o ripeto anche il nostro capoluogo di regione, un oggetto di una sede di queste organizzazioni internazionali. Ricordo a me stesso che, nonostante l'Italia sia uno dei paesi più importanti d'Europa, non esiste oggi una commodities internazionale che abbia sede in Italia. Onorevole, quindi un ultimo appello al voto, anche per portare i cittadini al voto, quello che facciamo anche noi dalle pagine dei giornali. Assolutamente fate bene. Io penso che tutti i cittadini debbano capire che l'8 e il 9 di giugno hanno un'occasione incredibile, quella di cambiare la storia dell'Europa, di creare un'Europa diversa che si occupi della difesa dei confini, che si occupi di parlare a voce unica sui problemi che contano e che la smetta una volta per tutte invece di entrare nella vita quotidiana con lacci e lacciuoli che poco conoscano, dando la possibilità agli stati sovrani di poter regolamentare se stessi. Ripeto, andate a votare, comunque la pensiate, comunque la pensiate, andate a votare perché l'esercizio della democrazia si esercita con il voto. Ricordatevi che se non vi occupate di Europa, l'Europa si occuperà comunque di voi. Grazie Onorevole.